Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Isola, specie al centro e al sud, mentre un po' di temporali, specie in serata, arriveranno al nord-ovest con fenomeni molto, molto intensi, tuttavia qualche temporale o meridiano potrebbe interessare anche l'Apenino, centro meridionale, tipici temporali di calore o meridiani dei mesi estivi. Per quanto riguarda l'Abruzzo sarà un weekend da piena estate con cieli sereni o velati, avremo un transtipo di nudi medio-alde che non porteranno fenomeni, qualche isolato temporale, nel sud, potrebbe interessare l'Apenino, parliamo di paroni molto, molto isolati e di breve durata. Temperature in unteriore aumentano date le massime, fino a 34 gradi su Chieti, ma gran caldo su tutto l'Abruzzo, fino a 30 gradi possibili all'Aquila, leggermente più gradevole solo in piena notte. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.